Assessore Magnacca, Assessore dell'attività produttive, una riunione importante in regione presieduta dal Presidente sulla questione delle concessioni balneari. Quale percorso si può individuare? Intanto vale la pena sottolineare come la grande confusione sia normativa che giurisprudenziale ha un po' messo spalle al muro sia gli enti locali, i comuni, che chiaramente noi come ente regionale che non intendiamo lasciare soli i comuni in questa battaglia. Il Presidente Marsiglio lo ha già dimostrato negli anni passati quando si è fatto promotore di una legge che ha resistito anche a diverse eccezioni della Corte Costituzionale. Quindi anche in questo percorso stiamo individuando insieme ai sindaci e ad ANCI, che è l'associazione dei comuni italiani, un percorso che possa al tempo stesso mettere in sicurezza l'interesse pubblico alla sicurezza delle spiagge, alla gestione delle spiagge, l'interesse su cui lavoriamo ogni giorno dell'anno, che è l'interesse al turismo e al tempo stesso la legalità dell'azione amministrativa che possa essere il più corrispondente possibile alle indicazioni dell'Unione Europea e anche delle corti di merito e di legittimità del nostro ordinamento. Troveremo sicuramente un punto di caduta che permetterà, almeno per questa stagione e in attesa che si vengano promulgati atti governativi di maggiore definizione, permetterà appunto a questa regione di essere di nuovo accogliente rispetto ai tanti turisti che ci aspettiamo anche quest'anno.